allora facciamo il io direi di far subito il team rocket qua allora no capi direi di fare il team rocket qua capi però non abbiamo cure minchia non abbiamo cure a livello di di items li abbiamo se non altro ad pp per i pp intendo brother li dobbiamo shottare sti pokemon che palle molto bene serve shottare quelli delle delle rocce serve shottare i pokemon delle statue non delle rocce delle statue che non ci siano proprio pokemon problematici alle statue è importante molto è non so se senza il crit lo uccido quello puttana dio bro ma che è sta roba molto bene però per ora si è stato e bro che hanno rimane a 1 quello magari livellandolo abbia rullato basso speriamo di aver rullato ma che statue sono zio però c'è che statue sono che cosa sono queste statue c'è che è sta roba che altro pochissimi pokemon su cui possono far 3 attacks siccome molti sono draghi c'è effettivamente abbastanza devo spammar 3 è vero che ce l'ho gli eteri e gli elisir ripeto però è un po' matrix puttana sta roba consentimi di dire zio molto bene speriamo di tirare giù salamence primario è stata uno magari abbia rullato basso molto bene ora non abbiamo la vedo dura ci dobbiamo provare a far flamethrower su pokemon qui non è troppo efficace dopo mi sa anche vediamo hitmonchan io farei confusion su hitmonchan molto bene confusion su hitmonchan anche questo non aveva estrema difesa speciale mi ricordo molto bene dai abbiamo usato due confusion qua è molto bene capi le due confusion qua quanto stai ancora non lo so amastro abbiamo fatto cioè volevo l'idea era di iniziare la kaizo prima ma poi per fortuna abbiamo fatto la cop con nannan che mi sono giga divertito su su bg quindi oggi abbiamo iniziato un lapilo un po' dopo e cioè poco fa e non so fino a che ora tiro di altro non riesco a tirar fino a giga 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 a fare una mega long stream fino a mercoledì né a fare le live extra il pomeriggio fino a mercoledì dopo mercoledì farò anche delle live extra sia magari o giovedì o venerdì che nel weekend capito quindi andate a rispondere mi raccomando l'indovinello su instagram che ha pinnato e soprattutto questo l'abbiamo shottato però magari l'ho shott anche l'aster purge puttana dio incredibile e oggi esce un reel alle 14 1 alle 18 su instagram che gli ho già programmati di due clip atomiche zio e il game è un game di battlegrounds alle due e mezza su youtube ieri sera se volete recuperare è uscito il secondo episodio su youtube della run con della run di slacking della run di slacking del gettone di slacking che ogni tanto me lo chiedete che palle cristo che resistono sti pokemon zio sto 30 livelli in più come cazzo fanno a resistere così tanto è vero che non c'ho un attacco speciale disumano diciamo però da dire che è così basso sto pokemon comunque bello è anche anche bene il top sarebbe stato avere attacco speciale invertito con la speed ma quest'ora dovrebbe morire da l'aster perché prima era il 36 poi useremo un elisir ragazzi abbiamo due elisir un max etero abbiamo poche cure si ebro che ci devi fare che ha fatto era focus punch però focus punch aveva seed bomb prima dobbiamo fare etere qui a parte il primo etere ok lui è locato su trash potrei provare a gestirlo con doppia confusion questo dai prendo 10 danni in prima risparmi un pp penso sia fine siccome comunque ce ne sono di allenatori da fare qua il full clear secondo me qua è sempre worth provarlo uno perché sono tanti punti due perché ti servono gli xp vediamo 3 attack vediamo andrei di 3 attack più che altro tanto dopo spammiamo flamethrower poi basta dimmi che stai trollando ti prego vediamo molto bene molto bene vai manca l'ultima statua giusto ora ultima statua dai perché almeno magari dopo troviamo pokemon da tirare giù con flamethrower così spammiamo flamethrower confusion e via free exp si però sarebbe stato bella free exp con pokemon shottabili anche da flamethrower che è pp appato perché stiamo usando solo 3 attack abbiamo già usato un etere però va bene dai bella jordan sicuro non è male per l'xp cioè su questo poco da dire poco da dire sul fatto che a livello di xp non sia male però vediamo fatti tutti questi ultrock vediamo explode molto bene bello sto livello più 4 più il resto tutto più 2 buono buono molto bene molto bene il fatto che non stiamo prendendo troppi danni quantomeno per ora è importante mi sa che tireremo un elisir secondo me con un elisir ce la caviamo sto dungeon serve un elisir ma del resto ce la dovremmo cambiare ce la dovremmo cavare con un elisir usato secondo me vediamo ok c'è lui no 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 non l'ho ancora trovato non l'ho ancora trovato padrone vediamo tower buono earth plate ok siamo nella fase di farming c'è il lato rega ora minchia slacking al 44 zio per tonsho puttana dio no no bro forca troppo più che altro non lo tiro giù ora io questo ok minchia slacking veramente cioè con Rain Dance poi che palle Glasson con Trower molto bene Trower certo che sono recuperabili io stavo continuando un try della settimana scorsa certo che sono recuperabili sempre stato così nella pill sempre stato così in che senso non sono recuperabili boom ragazzi devo tirare un un Elisir no? buono charge quanto due Elisir dovrebbero bastare charge confusion molto bene 72 così stiamo tranquilli ora tanto vanno due Elisir max etere vabbè dubbio focus energy wipe push bella ragazzi buongiorno a tutti il magma rizer regalo puoi trovare come qualsiasi altro item a caso nella mappa non è che lo puoi comprare abbiamo appena switchato abbiamo fatto un po' di battlegrounds in ladder poi abbiamo fatto due ore e mezza di battlegrounds con il nannone con nanni abbiamo fatto cop su bg con nanni ora stiamo qua sulla kaizu quindi siete entrati più o meno ho iniziato poco fa la kaizu abbiamo fatto la carta di geridos che anche quella lì non è scontata molto buona infatti e via bella ragazzi buongiorno a tutti buon poms luster purge ma resisteva ma cargo prima no ok siamo quasi al full clear no? ho sbaglio ti hai trovato una carta? lifion lifion in una run normale a questo punto di solito hai tre magma rizer oh rega che ci posso fare se non lo trovo sì secondo me è giusto usare l'isir tanto lì ho due l'isir piuttosto sto largo che stretto tanto vediamo chat cosa chiede la carta di geridos trovare al posto di geridos shiny un pokemon con più di 515 bst minchia acqua jet va bene ci fa poco danno aveva andato una berry tanto ne avevamo varie ok crower madonna molto bene noi puliamo il full clear bro che sarebbe importante fare il full clear qua vediamo vediamo qua sarebbe importante fare il full clear capi vediamo god ogni pokemon è un god cioè god è un pokemon ok questo non è sicuramente un god un magmar da 495 bst typing fuoco con speed disumano è un pokemon ok god c'è un gulo capo minchia non perish del rivale non perish del pokemon del rivale c'è del rivale dell'alleato volevo dire abbiamo fatto tutto qua vediamo un po' non abbiamo neanche cure per tutto sto round tanto speriamo di far questo zio che non è scoperto molto bene giulissimo che cazzo fa resistere zio io farei madonna puttana devo fare questo qua qua buono cosa devo fare luster sperando di droppare la difesa faccio 3 attack qua perché flametraver è disabled ora no con cosa vogliamo andare luster o 3 attack qua probabilmente luster drop si spera bella bravo dugong non posso farvi un travel disabled ancora va bene molto bene e vabbè posso anche chiuderlo di triatta ancora questo ok molto bene 73 molto bene no brother che palle solerock cristo dammi una mano di hugong vai bravo molto bene capi molto molto bene capi qua molto bene capi full clear attuato abbiamo solo usato un elisir in tutta tutta la roba 0 color usate ancora 200 di vita il nostro tankone qua molto bene ci ha carriato il dugong qui ah no aspetta finiamo di fare anche gli elettroidi dopo mettiamo i punti un salvattaggino tattico che la matrix è dietro l'angolo i clowns un elettro e un elisir abbiamo usato ok dai come roba you don't play aerson anymore i play i play battlegrounds bro but less than what i used to do in the past bro i just played some hours of battlegrounds we'll play it tomorrow again bro do you still watch ladder bro like feno ormeati somewhat like that merda è vero feri cazzo pazzesco giga chat moment quello è stato buono molto bene qui full clear fatto capi molto molto bene full clear fatto punti ciolli per chi mi ha messo capitano ragazzi vi sto già cominciando a farmare punti anche sta week buono tra quanto kingdrad merda porco dio se rimuoio da kingdrad a price brother c'è qualcosa che non quadra le mie rom veramente avvio un'indagine cazzo avvio un'indagine zio sarebbe veramente incredibile sarebbe imbarassi qui fate i bravi in chat anche te waste di merda zitto fai il bravo grazie Tupac godo che l'ho diminuito il volume rincoglionito di un Bennett porco dio ti mando in convento con ways e hub branco di idioti tanto l'ho diminuito l'audio non dà così noia suca fa la paglia suca buono bella yuk tutto bene si invece te come stai social uni tutto a posto sto guerrido guerrido è quello che mi manda il massimo come fa davvero incredibile sta roba ciao brother cosa sto vedendo ora però è imbarassing sta roba capiamo perché dai dosh però me 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 c'è veramente brother che robberi questa comunque set ancora iable my man buono dai che cazzo guerrido se un tumore porco dio cioè fatti bravi in chat per favore dobbiamo fare il capopale dai andiamoci a prendersi punti solli ok molto bene a francia è un coglione andate a rispondere indovinello su instagram mentre farmo ste palestre dai cazzo capi oggi è anche doppio reel che esce supporto questo è quello che ha trovato poli ieri sera che me l'ha mandato qua a rompere il cazzo porco dio merda guarda qui che cancretto porco dio vada cioè brother ma mi spieghi esattamente cosa cazzo sto beccando contro zio persiantis ma promesso il sole non ci sto credendo io ragazzi veramente non ci sto credendo porco merda non ci sto credendo zio non voglio rischiare tre burnil sul pokemon porco dio tre burnil e tre roseberry col pokemon fuoco porco dio non l'avevo visto prima sta roba ma che è e non ho trovato una cura un magmarizer che robberi cazzo qui eh vecchio che robberi qui devo usare un old gato cioè ce ne ho di cure ho un heal powder due lava cookies lo uso bro lo uso perché cioè chiaramente questo si cura non mi va di morire morning sun tua madre troia brutto pallone e non ho droppato una volta la cura sia quanto pare la cura si non si è droppato una volta cioè la la cura incredibile brother assurda sta roba ha finito i morning sun bravo cioè guarda che se mi riaveleni sarebbe da letteralmente brother cioè lui ha cure ha cure qua che mi usa su sto drift l'allenatore usa cure lui se va a poca vita ha due hyper cioè incredibile devo curarmi bro incredibile sta roba no vabbè mi sa che devo usare un etter sulla mossa devo far lava cookie no i brother non è possibile però cioè non è possibile bro che ogni poison sting ma veleni ai noob di merda mi sa che devo fare allora se lui non si cura io devo far max etter allora max etter into cosa into faccio max etter su flamethrower e poi uso flamethrower succhiatemi il cazzo fucking di clowns che fan live su youtube porco dios questo è pazzesco bro è pazzesco è pazzesco